500 ragazzi delle scuole di tutti i gradi nella giornata di venerdì 26 maggio hanno potuto conoscere dal vivo il sistema di protezione civile in occasione della dodicesima edizione del Campo Scuola di Protezione Civile che si svolge a Lanzo fino a lunedì 29 maggio. Organizzata sotto legida della Protezione Civile Nazionale dal Centro Servizi per il Volontariato Volto, sì della sua prima edizione il Campo Scuola ha visto la partecipazione della protezione civile della provincia di Torino prima e poi della città metropolitana. Qui a Lanzo oggi si tiene la dodicesima edizione del Campo Scuola che è organizzata. Allora abbiamo nuovamente puntato sull'imparare a convivere con i rischi del territorio per quanto riguarda il messaggio sulla cittadinanza proprio in un'epoca di mutamenti climatici ed effetti devastanti che vediamo in questi giorni ma non ci sono mai mancati negli anni e anzi stanno crescendo. E poi abbiamo organizzato delle momenti esercitativi sia per i volontari, per gli amministratori, per la popolazione e anche soprattutto con le scuole. E quindi siamo venuti nell'unione montana Valli di Lanzo Cerone Casternone e anche nell'unione montana Alpi Graie. Quindi per esempio stasera faremo una ricerca notturna di persona scomparsa anche con delle operazioni di ricerca appunto in ambiente montano e anche nel bordo dei fiumi con operazioni un po' strutturate e quindi abbiamo un campo d'azione molto più ampio rispetto agli altri anni. Uno dei punti di forza del campo scuola è proprio che è una scuola. Allora siamo partiti da lontano, prima erano formazioni fatte dai volontari per i volontari, poi pian piano sono arrivate le istituzioni. La prima devo dire è stata la città metropolitana di Torino, dalla prima edizione è stata presente. Poi come forze dell'ordine i carabinieri, anche loro dalla prima edizione e poi pian piano gli altri. Poi è arrivata la questura, ovviamente Regione Piemonte è arrivata al secondo anno e poi pian piano siamo riusciti a portarli tutti quanti a fare un pezzo di formazione. Le lezioni sono veramente tante e gli argomenti sono molteplici. Quest'anno, ed è la prima volta che succede e ne siamo orgogliosi, è venuto anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Quindi per esempio oggi ci saranno lezioni teoriche sulla parte del piano ricerca di persone scomparse, tenute dalla prefettura, dalla questura, dai Vigili del Fuoco e dalle unità cinofile di soccorso e ricerca. E poi in ultimo ci sarà la città metropolitana, quindi ognuno fa il suo pezzettino, proprio dal sistema di protezione civile. La città metropolitana, prima come provincia e poi oggi come città metropolitana, ha partecipato sempre. Con quale ruolo? Sostanzialmente con la possibilità di dialogare con le varie componenti della protezione civile locale. Quindi è un momento importantissimo per lo scambio con gli operatori del territorio, con gli attori sociali e anche con le istituzioni. E' una rappresentanza molto importante perché ricorda a tutti che le emergenze non sono che una parte della protezione civile che lavora 365 giorni l'anno. Ogni anno la nostra protezione civile fa delle lezioni. Su che temi? I temi sono i più vari, soprattutto abbiamo delle attività formative, sia rispetto ai volontari in parte, ma anche agli amministratori e ai tecnici che hanno necessità, soprattutto nel momento del rinnovo delle amministrazioni, di rimettersi in linea con quelle che sono le normative attuali. Quindi un amministratore, un sindaco appena eletto non è detto che sappia qualcosa della protezione civile. Ecco che diventa importante per noi assistere e supportare le amministrazioni anche da questo punto di vista. Oggi le normative sono molto complesse, anche se nello stesso tempo sono anche molto più precise rispetto a quello che poteva essere nel decennio che ci ha preceduto. Da un lato quindi c'è un aiuto, un sostegno notevole della normativa, dall'altro c'è la difficoltà degli operatori del territorio di essere sempre costantemente aggiornati e quindi questo è sicuramente uno dei nostri ruoli.